Ascoltare musica fa sempre bene, quantomeno piacere, soprattutto se a farla sono i piccoli musicisti rock della band costituita dai raggi fotonici. E' un tempo sciamano, magia nella tua mano, e un mondo di avventure si aprirà. Saurini, intergalattici eroi, viaggiare nello spazio è un'abitudine oramai. Saurini, sempre più uniti siamo noi, e da buoni amici non ci lasceremo mai. Saurini! Ciao! Ciao! Grazie, grazie alla piccola band costituita dai raggi fotonici per questa bella versione dei Saurini, che sono dei cuccioli di dinosauro alla ricerca dei loro genitori scomparsi. Un bel cartone di Rai Ragazzi, di cui potete vedere tutte le puntate su RaiPlay o sulla app di RaiYoYo. Ma adesso siamo qui! Grazie a tutti!